Il resto dei ghiacciai alpini per il discorso teli che ben conosciamo. Abbiamo proiettato alla scadenza del 2100 la situazione ghiacciaio-presena con e senza teli. Beh, con i teli è stata chiaramente dimostrata la sua utilità e di conseguenza la sopravvivenza, se così possiamo definirla, del ghiacciaio di Presena, mentre tutto intorno andrà definitivamente a scomparire entro la metà del secolo. Ecco, i teli, diceva, servono per rallentare ovviamente lo scioglimento di questo ghiacciai. Sai che ci sono anche parecchie polemiche su questo tipo di teli. Lei che tipo di riflessione ha fatto su questo aspetto? I teli non devono assolutamente essere considerati come la medicina per rimediare all'arretramento dei ghiacciai. I teli vanno benissimo se collocati in ghiacciai di piccole dimensioni e già fortemente antropizzati, come appunto è il contesto del Presena. Quindi non dobbiamo prendere i teli per metterli su tutti i ghiacciai ed evitare l'arretramento, cosa che è possibile soltanto limitando le emissioni di gas a effetto serra. Grazie. Grazie.